Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Autonomia differenziata. Ma vogliamo scherzare? Autonomia differenziata e dovrei essere contento? S'è trent'anni che mi sughe il contenuto naturale delle bale con la storia che questo è l'anno decisivo per l'autonomia e adesso mi cassè davanti l'autonomia differenziata. Ma che caso vuol dire? Che il lunedì le regioni gestiscono la sanità, il martedì il turismo, il mercoledì lo sport e il sabbo la domenega torna tutto centralizzato? O che l'autonomia viene gestita a turni da e varie regioni a seconda del mese dell'anno? Autonomia differenziata. Se è una truffa. Se è come dire la flat tax progressiva. O se è flat o se è progressiva. Non esiste una via del mezzo. Se è una truffa. Se è una ciavada. Come quando ti chiamano le cose di telefonia per proporre un affaron. E ti danno delle robe inutili per avere degli abbonati in più. Tipo 500 sms gratis. Che nessuno usa più gli sms. Sei inutile. Come mi. Ma è che io abbonato l'idea di indipendenza. Costretto ad abituarsi al metadone dell'autonomia. E adesso preso anche per il culo. Cornuto e mazziato come che dice Iteroni. che quando vardo in Drio. Che non sembra. Ma io sono stato un sognatore. Un romantico. Ma adesso basta. Ho chiuso con l'amore. So secco dentro. Come la pianura padana quando arriva l'estate. Non ci credo più. E guardo le foto dei primi raduni. E mi vien so che rabbia. Per quanto ero giovane. Rincoionio. Innamorà. Però era anche bello. I primi anni. I grandi movimenti. La formazione eroica. Sui classici del romanticismo autonomista. L'autonomia di Lady Chatterley. Via col Veneto. Vigne tempestose. I canti di Ostian. Per me. L'indipendenza. L'autonomia. Erano una stella immobile che mi muoveva. Erano lontane. Era un amore platonico il mio. Irraggiungibile. Però poi quando è arrivata l'adolescenza che gli ormoni mi smuoveva da dentro le pulsioni della carne normali per qualsiasi giovanotto nato sopra il 45esimo parallelo nord. Volevo roba concreta. Volevo vera autonomia. E allora via col fai da te chiuso. Nel bagno coi giornaletti. Play tanko. Le ore padane. Ma non mi bastava. Perché io volevo anche l'amore. Volevo l'autonomia viva. Pulsante. E quando è arrivata l'età adulta negli anni 90 sembrava fatta. Avevamo tutto. Avevamo vinto le elezioni. L'avevamo duro. Ero tutto docciato. Improfumato per il primo appuntamento. E sondai in bianco. Era il primo anno decisivo per l'autonomia. Adesso basta. Non che credo più. A una roba che mi proponete. Che deve passare sei mesi solo a fare dibattito sui quali sono i livelli essenziali di prestazione delle regioni. Cosa resta duro per sei mesi? Niente! Basta. Basta. Eppure nel cuore mi continuo a sperare. Perché come ha detto Casanova la sofferenza si incarnia nel cuore dell'uomo. ma lui continua sempre a sperare nella guarigione. E quella speranza a modo suo da sola. È un piacere. Amore. È non dover mai dire anche quest'anno l'autonomia la facciamo l'anno prossimo. Grazie. Grazie. Grazie.